Il periodo drama è una definizione molto ampia e al suo interno ci sta un po' di tutto, dall'antica Roma di Britannia, per dire un titolo dei nostri colleghi di Londra, di Sky di Londra, sino a 1992, 1993 e 1994, che sono invece l'altro ieri. Insomma, diverse modalità, ma tutte in qualche modo collegate da vicende che vale la pena in qualche modo riraccontare o raccontare per la prima volta, raccontare a modo nostro e cercare di inquadrare all'interno di uno stile, di una linea editoriale del canale, che è quella della serie, della serialità complessa o di qualità, se vogliamo, nel senso di non accontentarsi magari della prima chiave di lettura, ma provare ad andare un po' in profondità, sia rispetto ai personaggi, sia rispetto alle vicende, pur continuando a fare fiction, per cui non siamo i story channel e non vogliamo esserlo e quindi naturalmente quello che ci interessa può essere raccontare storie, storie che siano ingaggianti. Meglio se magari raccontate scritte da una penna di qualità o da uno storico, storiografo autorevole, oppure messe in scena da uno showrunner o da un regista particolarmente di qualità. Naturalmente se c'è anche magari una derivazione letteraria, meglio ancora, nel senso che gli elementi poi di aggancio rispetto al pubblico possono funzionare ancora meglio. Domanda difficile, quale serie storica, quale period drama? Mi verrebbe da dire che veramente dipende dai gusti, nel senso che se consigliassi Britannia potrebbe a qualcuno fare ribrezzo, ad altri piacere molto. A me ad esempio piace molto, piaceva, perché ormai è andata qualche anno fa Boardwalk Empire, una serie americana di HBO che abbiamo mandato in onda, così come mi piace molto come sta avvenendo Catch 22, Coma 22, che è una serie ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale che andrà in onda sul canale il prossimo anno. Ma ce ne sono veramente tante. Anche una serie come Tabù, che lo scorso anno abbiamo andato in onda con Tom Hardy, una vicenda molto, molto cupa e dark, anche con dei piccoli elementi, diciamo fantasy, molto bella, molto efficace, la consiglio.